3 hanno anche saltato i vari percorsi solo per portare a casa la coppa che soddisfazione tegate a portare a casa la coppa io non lo so è il primo? bravo ragazzi è uno da? 49 47 47 47 47 73 il secondo? 73 no? 2 vuole la 10 72 36 33 34 34 35 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 36 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il secondo è 56, il terzo è 8 e il quarto è 59 Bene, bene No, ci fermiamo qua Sì, sì, per i bambini sì Bravi No, bambini niente, il grande me ne fregono Il grande facciamo il primo Facciamo il primo, il secondo 25 25 È un po' meno di 10 Eh, perché scusa, mi sembrava... Non posso Allora Allora